Cavalli anziani, discreta categoria, a distanza del miglio, ne rimangono in dodici, due cavalli non corrono, l'Olimpado è il nove e il dieci di Usain. Netto favorito, Rebi di Cielo, Luigi Farina Junior, in salchi. Dodici anziani, miglio, terza, cavalli affidata ai gentlemen, paletto dei duecento, allineamento che gradatamente va a completarsi. Vireo Jet rinuncia e si ritrae, ancora un'ottima partenza, via la macchina in velocità, allacciate le cinture, ci sarà un po' di movimento, via in velocità la macchina. La Samantha, facile, all'argo di tutti, scende lungo i birilli e comanda l'errore di Serafino, poi il tre di Rebi di Cielo, preso un po' in contropiede dalla Samantha, di dentro Picasso. Tredici otto e lancio, si affaccia Rebi di Cielo, ma poi buono buono il buon Farina, va a miti consigli, perché Samantha non manda via. Ci completa la piegata e anche il quarto iniziale, quarto iniziale in ventinove e mezzo, Samantha amministra i birilli, in terza posizione, Picasso, per linee esterne il quattro di Panther Pride, con il codino di De Caro. 600 in 44 e mezzo e cavalli che affrontano la piegata, viene via la Villani con Vireo Jet e tenta la risalita, è stato anche stappato, ma l'andatura si mantiene più che discreta. Mezzo miglio, se ne va in un minuto e qualche spicciolo, e ora Rebi di Cielo si riaffaccia e punta sulla Samantha. Viene via Rebi di Cielo deciso, il chilometro se ne va in 15 e 1, 14 e mezzo di frazione, Samantha reagisce, ma Rebi di Cielo non dà tregua. Poi Vireo Jet, i cavalli affrontano la curva finale, 14 di frazione, 1, 29 e 1, i tre quarti di miglio, e Vireo vorrebbe l'aggancio, la cosa avviene. Avalial completamente la curva finale, Samantha, Rebi, Vireo a largo, e Vireo punta in avanti, la Villani. La Villani ci crede, ci prova, ci prova, ci crede, ci crede, e come ci prova e ci crede, la Villani, alla finestra, non solo ha preso il sole, ma ha preso anche il primo. 1, 58 e mezzo, 1, 14 e 1, un'altra guidata di questa Villani, Vincenzo D'Alessandro Junior, in arte manini dolci al training, ma in Salchi c'è sempre lei, la mattatrice dei gentlemen. Si chiama Elena Orlando Villani, e così Vireo Jet va a chiudere in 1, 58 e mezzo, il tempo, 3, 65. Linea allo studio. Grazie a tutti.